Siediti in una comoda posizione. Trova il tuo spazio per ascoltare il tuo corpo qui, ora, in questo momento. Ascolta, la tua schiena è retta ma morbida, la tua postura aperta, ricettiva, il tuo stato interiore sereno, il tuo respiro che diviene sempre più tranquillo. Senti l'aria che entra ed esce dalle narici. Goditi questo spazio tutto per te e ripercorri con l'occhio della tua mente il percorso che hai svolto fino a questo momento, questo meraviglioso viaggio all'interno dei tuoi chakra. Senti questa energia che è sempre presente dentro di te e che scorre costante che alimenta la vita, questa forza vitale. Immaginala dal basso salire verso l'alto all'interno della tua colonna vertebrale, dal tuo perineo fino all'apice della tua testa, come a sentire una luce che sale dal basso all'alto ed esce attraverso la fontanella della tua testa. lascia scorrere questa forza vitale e senti tutto il tuo corpo che si armonizza. respira nel primo chakra, se vuoi puoi visualizzare i colori, ma non preoccuparti se non ti vengono le immagini. Lascia che la tua mente produca ciò che viene, senza sforzo. Segui solo le mie parole e lascia che avvenga la tua esperienza, godendotela qualsiasi essa sia. Immagina le tue gambe fino al perineo, alla base pelvica di colore rosso. Respira questa potenza del rosso, questa vitalità, questo senso di forza, sicurezza, radicamento e vita. Respira e passa al colore arancione, il tuo bacino, il basso ventre, immersi nell'arancio. Respira quella vitalità, quella forza morbida e fluida come l'acqua. Respira, ora un po' più su, nel centro dell'addome fino al plesso solare, il colore giallo. Questo colore solare del fuoco, della vitalità, della trasformazione, del discernimento. Respira questa potenza di trasmutazione. Senti, senti questo tuo fuoco interiore e lasciano agire. Respira e sali nell'area del torace. Il chakra del cuore, colore verde smeraldo. Respira questo colore, questo elemento aria. L'apertura, il respiro, il soffio vitale. Lasciati immergere in questa vibrazione. Respira e sali dalle clavicole alla gola, al collo, al chakra della gola. Colore blu, un blu luminoso, forte e potente. L'etere, l'essenza che è fra gli elementi, quello spazio che sembra vuoto ma che vuoto non è. E che ti fa comunicare col tutto fuori e dentro di te. Respira e sali nell'area della tua testa. Colore violetto o indaco, il sesto chakra, quello della chiara visione. Lo spazio, il vuoto, l'intero, il tutto, la visione sottile, superiore, la tua mente lucida. Amplia la tua mente. Lascia espandere questo colore di potente connessione con la tua mente superiore. Respira e sali ancora nell'area della fontanella che si connette al cosmo e che ha la sua apertura solo verso l'alto come un fascio di luce bianca che sale al cielo. Senti questa apertura e questa espansione. Respira e lasciati agire, comunicare, espandere. Connettere con l'universo intero. Respira e ora senti tutti i tuoi chakra che hai riattivato e ricontattato. con tutti i loro colori, tutti connessi gli uni con gli altri, in armonia. Vibra, rosso, arancione, giallo, verde, blu, violetto, bianco. Tutti i tuoi chakra sono in armonia. Vibrano e si connettono ognuno del suo colore. Ringrazio a te stesso per esserti preso questo tempo per te, per la tua armonia interiore. Per esserti dedicato questi momenti, per essere fluido nell'armonia dei tuoi chakra, dei tuoi stati interiori di coscienza. E ricorda di mantenere sempre alta la tua mente, allenandoti alla gratitudine, all'auto-osservazione, osservando i meccanismi più profondi che agiscono dentro di te per correggerli e portarli verso le sue vibrazioni più elevate, le vibrazioni più elevate della tua mente. Lascia che il tuo respiro continui a fluire morbido, tranquillo, sereno e con questo stato di serenità interiore, piano piano, quando vuoi, ti prepari a riaprirti all'esterno, muovendo prima l'estremità, soffiando per due volte l'aria dalla bocca come a riportare l'attenzione alla materia con un senso di apertura del cuore e della mente e di maggior consapevolezza. Buona prosecuzione di questo meraviglioso viaggio nella scoperta del sé. Namastè Grazie Grazie Grazie